Ceramiche Milù ha aperto il proprio showroom a Cava dei Tirreni in via Idolongo numero 15. Vieni a trovarci! Ti mostreremo una vasta gamma di prodotti dipinti a mano, personalizzabili per ogni esigenza. Ti aspettiamo! Ancora vandali in azione a vetri sul mare. I gnoti, infatti, hanno preso a sassate e divelto danneggiandoli seriamente i fari a LED installati da pochi mesi per illuminare nelle ore notturne il famoso Ponte dei Diavoli alla frazione Molina di Vetri sul mare. Il sindaco facente funzione, Marcello Civale, ha annunciato che procederà ad informare dell'accaduto i carabinieri, sporgendo denuncia contro i gnoti. Tuttavia, non si tratta di un caso isolato di vandalismo che si verifica a Vetri sul mare. Infatti, poche settimane fa, per l'ennesima volta a pagarne le conseguenze, è stato il ciucciariello, simbolo indiscusso della tradizione ceramica vietrise situato in piazza Matteotti.